Che cosa sarà mai un punto percentuale per quanto in meno di fronte allo stilicidio delle cifre di questi giorni? Eppure oggi proprio questo numero, solo apparentemente piccolo, dà il senso a quanto accade. È per questo punto in meno che per la prima volta il nostro fatturato scende sul mercato estero. È una tacca sul Made in Italy. Complessivamente il fatturato a marzo segna il quindicesimo calo consecutivo. La storia non era così brutta dal 2009 e da un anno all'altro ha perso il 7,6%. Dato che si compone del 10,6% sul mercato nazionale, l'assillo ben noto della domanda interna inchiodata, del potere d'acquisto è il nostro evaporato per crisi. E poi c'è quel punto, sì, solo apparentemente piccolo, una sorpresa e non buona. Il problema è che a mancare all'appello sono state le produzioni che finivano in paesi forti come la Germania e la Francia, tra i nostri partner commerciali principali. Ed è un risultato che mostra quanto, in fondo, non sia casuale se ora in Europa si parla di sviluppo e si spinge per cambiare registro. Letta è andata a Berlino, poi è volata a Parigi. Lo scenario ormai è chiarissimo. Ora, dietro quel lavoro inteso come priorità, si nasconde, poi nemmeno tanto, la grande paura che ormai ha soppiantato lo spread. Si produce meno perché meno si vende, ma allora, se meno si produce, serve meno lavoro e questo circolo vizioso ora è il tema. Come sempre a segnare il passo è il settore auto, peggio ancora la raffinazione petrolifera, va male più o meno tutto comunque, tranne ottica e computer. Fin qui il passato perché gli ordinativi, e cioè la raccolta delle commesse di quello che andrà prodotto, danno invece un segnale. In un anno la discesa è a doppia cifra tonda, pesante, ma da febbraio a marzo c'è un più 1,6%, troppo poco per parlare di inversione, ma con quell'aumento dell'1,6% di ordini si produrrà un po' di più che ora è quello che serve. Grazie a tutti.